Gli anziani sono un patrimonio di spiritualità e sapienza cristiana ed umana che non possiamo perdere. Per celebrare il Giubileo della Misericordia tra gli anziani, Monsignor Maurizio Malvestiti si è recato a Casa del Pusterlengo e a Codogno, presso le case di riposo, per presidere la Santa Messa e concedere l'indulgenza plenaria. In possibilità di arricarsi a Roma o a Lodi in cattedrale, gli anziani, entrando o varcando la soglia della loro stanza, hanno ricevuto, in base alle condizioni stabilite della Chiesa, il dono dell'indulgenza plenaria. A Codogno il Vescovo ha concelebrato la Messa con il parroco, Monsignor Iginio Passerini, con Don Antonello Martinenghi e Don Franco Raimondi. Oggi, ha detto il Vescovo, è come se celebrassimo in tutte le case di riposo il Giubileo ed ha rivolto quindi il suo ringraziamento a tutti gli anziani, ospiti, religiosi e religiose e con loro ai volontari che li assistono, ai medici, agli infermieri, dirigenti e ai benefettori che si occupano del funzionamento e del finanziamento di queste strutture e possono riservare la migliore accoglienza possibile. Si garantisca una dignitosa assistenza agli anziani nel rispetto della persona umana, soprattutto quando è fragile, ha detto Monsignor Malvestiti, invitando ad esprimere il proprio no a quella cultura che mette da parte le persone quando non producono più e rivolgendosi direttamente agli ospiti delle case di riposo ha espresso l'invito a vivere il Giubileo della Misericordia come un tuffo nel pentimento per ricevere l'amore eterno, accogliendo il perdono nella confessione e ricevendo la comunione, professando la fede della Chiesa ed impegnandosi a vivere secondo le possibilità di ciascuno le opere di misericordia spirituali e corporali. Nel suo messaggio di benvenuto al Vescovo, il Presidente delle Opere e Pie di Codogno per Giovanni Barbaglio ha detto che l'importanza della struttura di Codogno è testimoniata dalla vicinanza di tante persone, volontari e benefattori che nel corso del tempo l'hanno resa luogo di accoglienza umana, sottolineando il bisogno di spiritualità degli ospiti in un ambiente nel quale problemi e dispiaceri conducono a ritrovare la forza nella fede affidandosi con fiducia a Dio.